Soprannominato il tritacarne, il megalania era un rettile che raggiungeva i 10 metri di lunghezza e che pesava almeno 450 kg. Esso viveva in Australia ma, oggi, si ritiene ormai estinto. Per dare un'idea delle sue dimensioni, se il famoso drago di Comodo, o Varano, può raggiungere approssimativamente le dimensioni di un leone, il megalania poteva superare tranquillamente quelle di una mucca. Sembra però che negli ultimi decenni questa creatura sia stata avvistata molte volte in Australia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.